Allora, ecco la prossima parte del tutorial quindi abbiamo visto come fare delle custom icon adesso vediamo come noi abbiamo attribuito che in base a certi valori cambia l'icona quindi se è minore di 100 si mette un'icona, se è minore di 200 si mette un'altra icona però proviamo a vedere come dimensionare un cerchio invece di questa icona dimensionare un cerchio in base appunto a questo valore reale ho cercato in QGSTUDIF l'esempio, questo è l'esempio base quindi lui mi dice ok c'è l'icona che fa il pop up che è quella che praticamente abbiamo utilizzato adesso e poi c'è anche un cerchio vediamo come è generato questo cerchio lui mi dice che l'icona che qui è var maker, l maker, add to map noi abbiamo questa index html che è esattamente quella che abbiamo asportato prima con QGIS abbiamo anche qui l maker, l'add launch e poi viene definita l'icona il primo passaggio quindi è da fare ok, qua c'è scritto l maker e qua l circle quindi copiamo questo l circle lo inseriamo per il momento qua, vediamo di commentare questa parte così non ci da fastidio è una buona regola anche copiare questa parte che funziona prima di andarla a modificare di commentarla e adesso e adesso proviamo detto così detto così sembra che bisogna sostituire l circle con l maker l'add launch lo viene preso attraverso una variabile del file geogson bisogna aggiungere questo 500 che al momento non so cosa significa quindi l'add launch 500 e poi la nostra parentesi graffa che va a sostituirsi a questa parentesi graffa quindi la modifichiamo cioè la cancelliamo metto questo graffa al suo posto mettiamo un po' di ordine con i vari orienti quindi adesso noi ci aspettiamo che al posto delle icone ci sono delle ah si 500 dovrebbe essere la dimensione al posto delle icone ci sono dei cerchi andiamo a vedere e non funziona e magari abbiamo dimenticato qualcosa l circle 500 sicuramente qui c'è una virgola ok e se andiamo a zoomare vediamo tutte queste icone rosse cioè pallini rossi e adesso dobbiamo cercare di ridimensionarli come come facciamo a ridimensionarli adesso vedo che alcuni sono piccoli ed alcuni un po' più grandi proviamo a vedere se ad esempio modifichiamo questo 500 in 1500 cosa succede? sembra che le icone sono diventate più grandi quindi facciamo molto più grandi 5500 queste icone diventano sempre e sempre più grandi quindi la nostra variabile è esattamente questo questo qua che noi dobbiamo passarli e cercare con il codice già scritto tramite una funzione di modificare questo valore come facciamo? allora lui prima ci diceva l'icone url cambia in base in icon exp noi sappiamo che la colonna che viene portata dietro da json che ci da una dimensione è questa qua incominciamo a mettere a creare una funzione che la chiamiamo get c size poi qua sopra facciamo function get size aperta parentesi di graffe chiusa graffa mi sono copiato un attimo il codice eccolo qua che era quella del get icon facciamo get size quindi d get size aperta parentesi future properties invece di icon exp mettiamo somma quindi lui richiama la funzione get size gli passa la variabile somma e dice ok ritorno di 1 era ci doveva rispondere un numero gli mettiamo 100 facciamo 10.000 altrimenti ritorna 20.000 poi andiamo a modificare questo uguale perché quello che dobbiamo fare noi è una classificazione di questa somma o addirittura di ritornarci esattamente la dimensione della somma prima voglio vedere solo se funziona perfetto ci mette questi palloni ma visto che i numeri sono grandi possiamo dirli va bene se è adesso in javascript devo capire se basta o uguale se è minore di 500 fai 10.000 facciamo se è minore di 100 fai 100 se è minore di è ritornato qua è ritornato e sembra che non ci siano problemi si sarà chiuso ogni cosa ok se è minore di 500 punto di domanda dammi 1000 altrimenti due punti dammi 20.000 vediamo se questo codice funziona quelli sono tutti piccoli ma sembra che ce n'è qualcuno ok sono diventati alcuni più grandi questo è 200 e questo è 2 mi piace veramente tanto allora prima abbiamo fatto minore di 6 e classe 1 minore di 88 e classe 2 questi li possiamo ridefinire quindi se è minore di 6 diventa 100 se è minore di 88 diventa 500 poi cos'è che c'è se è minore di 186 e 356 186 356 186 356 facciamo 1000 se è minore 356 facciamo 2000 altrimenti che è ancora più grosso che è ancora più grosso facciamo 5000 vediamo se sta funzionando tutto mi sembra perfetto qua ce ne sono 360 e qua ce ne sono 154 potremmo addirittura cambiare il colore qua ce ne è uno gigante che è 558 e qua ce ne è uno piccolo di 200 però quello che ci dice è che la somma è già un valore suo quindi questa è una classificazione ma noi li potremmo dire ok questo qua commentalo e non mi dire niente qua in getSize invece di getSize scriviamo direttamente somma poi se dobbiamo moltiplicare questa somma per un altro valore è un altro discorso però per adesso lui incomincia già a dimensionare sono piccolissimi proviamo a metterli getSum per 1000 vediamo cosa succede se riconosce quelle 1000 sono un po' grandi però è bellissimo facciamo per 10 penso che si possano fare delle infografiche stupende facciamo per 30 andiamo proprio dei valori un po' cioè perché così si vedono si vedono bene eccoli qua l'isola d'elba oh va che belli così 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 mi piace bene è finito questo è il tutorial spero che vi piaccia alla prossima è stato piuttosto semplice adesso devo mettere questo in bootleaf altra cosa cercate di non meschiare i codici ma vediamo vediamo